allora ciao a tutti ben ritrovati siamo ancora nella mia gabbia piccolo discorso ovviamente nella mia gabbia con le mie bombe ok guardate piccolo discorso per quanto riguarda come riparare il bonsai dal gelo dal freddo dall'inverno perché perché sto ricevendo come sempre un sacco di domande perché a breve sarà inverno a breve tra qualche mese arriverà per quelli che dicono arriverà arriverà ovviamente perché sempre arrivato e quindi piccolo discorso per aiutarvi a smettere di avere paura che la vostra pianta muoia perché perché si chiama bonsai perché molto spesso avete due piante identiche una non la guardate neanche e sta benissimo l'altra la chiamano bonsai la chiamate bonsai sta in baso bonsai fate un sacco di operazioni eppure sta sempre peggio di quell'altra ok quindi prima regola in linea di massima e questa è una regola d'oro in linea di massima chi non fa niente non sbaglia quasi mai non sbaglia mai ok perché perché il neofita sbaglia sì quando mette mano lo fa per paura non perché per necessità ma per paura quindi è stato spiegato che il bonsai è una pianta speciale una pianta che ha bisogno di mille attenzioni no in quei corsi dove vi dicono di tutto di più hanno perché il bonsai la pianta normale è una pianta normale c'è un questo un carpino allora un carpino nessun bisogno di manutenzione starà sempre bene invece un carpino bonsai a è finita scarterà i rami colpi di secco e dai delle robe allucina devi ripararla quando arriva il freddo ma che cazzo ma raga ma ascoltatemi smettete di rompere le palle smetti da retta gente che che di professione vende i ciclamini e i crisantemi ok perché poi di fianco ci hanno anche qualche bonsaino qualche piantina ma quelli bonsai non li hanno mai visti assolutamente scusate ok quindi io faccio bonsai di lavoro che sono bonsai ho partito io faccio bonsai non è che lo faccio sabato la domenica questo è il mio lavoro cazzo 24 ore al giorno io faccio queste cose qui e in più c'è un marchio registrato vendo dei prodotti c'è un sito internet e c'è pure bonsai eh fatti da me tra l'altro alcuni li ho anche comprati adesso no adesso iniziano ma non li ho comprati se volete regalatemeli se non siete contenti che li ho comprati alcuni regalatemeli qui se almeno ci mettiamo d'accordo meglio allora ragazzi molte piante non hanno nessun nessunissimo problema per quanto riguarda le temperature rigide perché per noi magari arriva il freddo per loro invece che di norma vivono nei boschi e non hanno quindi il termocappotto addosso non hanno testecco non hanno l'ombrello quando piove e a di massima quindi quello che è freddo per noi per la pianta invece è ordinaria amministrazione è arrivato l'inverno vanno in stasi si fermano noi ci dobbiamo mettere il giubbotto loro anzi perdono pure le foglie si spogliano dicono toh alla faccia tua e mi spoglio pure non mi interessa niente quindi come vedete da oltre cinque anni oltre ad essere il punto di riferimento qua in italia nel bonsai da oltre cinque anni non ho mai messo una pianta in serra fredda ok nessuno dirà ma da te le temperature non scendono tanto perché te nella tua posizione si va bene non è che io sto nel deserto del sahara e voi state al polo nord cazzo dai c'è anche sta storia dovrà un pochettino ridimensionarsi per carità è vero che alcuni posti le temperature scendono parecchio sotto lo zero ma vi spiego anche in quel caso come fare per evitare che la pianta muoia seconda regola quando ci sono delle gelate se la pianta è in stasi e ferma non gliene può fregare de meno cioè così non gliene frega un cazzo vedete i rami che sono pieni di ghiaccio sopra se le gemme sono chiuse se i rami sta lì la pianta è ferma lì non gliene frega niente ok soprattutto se durante la giornata poi le temperature si alzano un pochettino magari tornano sopra lo zero e si scongela tutto quel marasma però vi dico sta cosa gli olivastri sono piante più che altro che stanno bene in puglia con il caldo e ho avuto una stagione che siamo arrivati a meno 10 gradi meno 10 gradi c'era la neve c'era il ghiaccio e io mi son detto ma col cazzo che esco a beccarmi il freddo ma io non faccio niente voglio vedere cosa succede cosa è successo ragazzi niente zero ha perso qualche fogliolina non ha scartato neanche un ramo ha ricacciato da dietro la prima vera dopo per carità mi sono un po preoccupato che vedevo sempre sto cazzo di neve dappertutto però la neve ragazzi vi aiuta a creare isolamento cioè vi isola veramente la pianta anche dal freddo quando avete la neve sopra il vaso lasciatela lì va bene perché primo vi isola come viato dal freddo secondo vi mantiene sempre idratato perché alla parte che tocca il terreno rilascia sempre un pochettino di acqua un po alla volta se avete substrato specifico che ragazzi è l'ideale perché così mantiene sempre giusto grado di umidità e non rischiate niente quindi cosa faccio io ragazzi io non faccio niente sono cinque anni che non faccio niente a lasciare tutto così perché perché le piante che si devono abituare al freddo quando arriva al freddo loro devono capire che devono stare ferme lì perché se no se le spostate le mettete sempre da un'altra parte poi un certo punto vanno in tilt quindi nel dubbio anche per evitare scusate c'è un po di luce anche per evitare di andare a creare confusione al vostro bonsai cercate sempre di lasciare tutto così com'è al massimo le mettete un po vicino al muro di casa perché il muro comunque essendo mattone trattiene un po di più il caldo durante la giornata quindi rilascia poi anche il caldo di sera verso la pianta cioè vi alzerà temperatura di 1 2 gradi poi se abitate in climi veramente molto rigidi ovviamente prendete piante autoctone che stanno bene con quel clima lì se voi di fianco a casa vostra avete i pini e vedete che sta lì da 300 45 cento anni usate con le piante live far bonsai ovvio che se prendete una bug anvilla porta in trentino e morirà come un ficus morirà ragazzi c'è poco da fare oppure se era freddo se cazzi che vi ammazza troverete magari la soluzione però sarà sempre del lavoro in più e non capirete mai poi come fare perché la pianta non funzionerà mai bene quindi l'ideale avere piante che sono il top per il vostro clima come vedete che molti mi dicono le tue piante su un semplice ma cazzo mi do devo coltivare piante che che sta male il mio clima aceri su un leccio cioè cipressi un pino olivastro cioè sono piante che sono rustiche sono toste non gliene fare un cazzo se arriva il freddo il problema sono le gelate tardive quelle lì sì quando la pianta inizia a muoversi i rami si riempiono di liquidi perché poi la vegetazione è fresca si sta aprendo lì si arriva una bella ghiacciata tardiva e lì sono cazzi lì vi secca tutto quello che fa e poi dopo beh se la pianta sta bene risponderà però quelle sono delle scriccate che vi danno dei bei colpi fatti per bene sono cazzi amari ok quindi fermi tutti non fate manovre strane fate una prova è proprio adesso che avete delle piante che fan cagare che costeranno 50 100 euro fate delle prove lasciate tutto così perché così quando vi togliete il dubbio ho detto delle piante da 1500 2000 3000 euro dopo sarete tranquilli proprio in pace ok al massimo sarete proprio fifa prende la pianta che vede che congelata per per molto tempo rimane congelato il vaso la prendete la mettete un attimo in garage dove ci sono che ne so due gradi nel garage si sghiaccia poi la rimettete fuori non fate la cazzata di mettere le piante in sera calda perché se no vi si lessano perché passare dal ghiaccio a meno 10 e passare a più 25 ragazzi è un massacro cioè vi si lessano le piante ho avuto amici un amico che ha avuto dei problemi sono morte le piante sono morte le piante quindi le piante non ha paura del freddo non ha paura del vento al massimo ma se proprio volete mettete un po un tessuto non tessuto sul vaso per coprirlo un po se avete stafisi ma considerate che però se ci sono meno meno 5 gradi avete il tessuto non tessuto anche quello diventerà meno 5 cioè alla fine secondo me non isolata non isolate niente anche perché non potete chiudere ermeticamente fare un capotto termico sul vaso sennò vi marcisce tutto c'è l'acqua deve scollare da sotto in più ci deve essere sempre traspirabilità quindi che cazzo isolate cosa isolerete mai niente ok tranquilli poche pugnette la neve non fa niente il vento non fa niente la pioggia non fa niente e qui ok e qui che sbagliate qui perché fate le cose è che siete in preda al panico all'ansia e al dubbio perché non conoscete la questione una volta che avete capito che il problema non c'è non fate niente siete a posto ok anzi fate ve lo ripeto fate tutti gli esperimenti adesso così siete all'inizio poi dopo partite veramente a bomba ok ragazzi ciao a tutti ci vediamo al prossimo video claudiobonsai.com tutto quello che vi serve per coltivare al meglio i vostri bonsai ciao